ciao questo titolo è interessante perché le lamentele avvelenano l'organismo ci sono due tipi di lamentele quelle dovute le chiamo io e quelle inutili che fanno male fanno male anche quelle dovute mi spiego meglio quando sono andato a dei funerali sentivo le persone che andavano al funerale a trovare i parenti gli amici del defunto soprattutto i parenti si avvicinavano e con la faccia triste vestiti a lutto di nero ripetevano mi dispiace mi dispiace poi c'erano quelli mi dispiace moltissimo sono distrutto sono addolorato se me sono tutte parole velenose quando io sono curioso chiesi ma perché vai da quella lì la braccia gli dici nell'orecchio mi dispiace molto è perché si usa così quindi attenzione il funerale che inevitabile nel senso che moriremo tutti diventa il momento più triste della vita sembra che quelli che non sono morti che sono ancora incarnati quando vanno dai parenti del morto devono solo dire cose negative assolutamente negative vestirsi in modo penebroso scuro quindi quelle lamentele non fanno bene a nessuno poi è strano perché dalla bocca escono le lamentele intorno i fiori cioè no quindi non c'è non è un'atmosfera cupa che secondo me non va bene poi ci sono le lamentele in genere che molte persone si lamentano ci sono persone che ho incontrato che si lamentano quando stanno male e ho incontrato anche persone che si lamentano dopo che sono guariti dice ma come così sì ma se ti racconto come stavo male e non me lo raccontano c'è la continuazione del dolore nel racconto del dolore vissuto quindi le lamentele producono veleno nel corpo questo veleno si può quantificare in invecchiamento avvelenamento dell'organismo allora noi siamo un insieme di organi per cui anche a livello di persone che non sono esperte di psicosomale si dice mi si spezza il cuore c'ho il cuore che piange davanti a una morte una malattia no la mente era oppure rabbia quindi il cuore tutta l'emozione rabbia il fegato oppure un dolore lancinante pungente ulcera ulcera quindi ci sono vari tipi di lamentare ma che devo fare l'elenco però l'organismo è un insieme di organi che vengono avvelenati proprio ci sono delle parole delle emozioni che producono tossine avvelenano il corpo o ritardano lo smaltimento di tossine che ci sono già quando noi mangiamo per quello che è così un'alimentazione a base vegetale se mi scrivete ho scritto anche dei libri su questo e qua è l'indirizzo email quando noi mangiamo possiamo assorbire dal cibo, dalle bevande o dall'atmosfera delle tossine abbiamo un sistema immunitario che elimina le tossine ma se noi ci mettiamo le lamentele le lamentele abbassano il livello del sistema immunitario quindi abbassando il livello del sistema immunitario abbassando l'autostima il corpo è un insieme l'organismo un insieme di organi fa fatica a liberare se stesso o una parte di sé un organo se vuole la rabbia e il fegato delusioni amorose chiamate sentimentali e emozionali il cuore non so se avete sentito persone non so il figlio è stato bocciato a scuola non la mando giù uno è stato licenziato non riesco a mandarlo giù quindi la digestione c'è un rapporto stretto tra parole emozioni pensieri pensieri emozioni parole che danneggiano quindi prova a liberarti delle lamentele e c'è una lamentele di quelle che non ha senso però la faccio in tutte le conferenze che ho fatto qualche volta mi è capitato qualcuno che è venuto non a essere contento per quello che ha sentito a lamentarsi del fatto che non l'aveva sentito prima dico ma prendi adesso no? prendi adesso ah se l'avessi scoperto vent'anni fa prendi adesso quindi accogliere la positività la bontà la novità la meraviglia ma non inquinare sempre con quella goccia di veleno prodotta dalla lamentele attenzione le lamentele sono verbali sono mentali ma producono effetti psicosomatici cioè producono effetti psichici mentali che vanno a scaricare sui vari organi ho scritto un libro te lo consiglio il grande potere della mente positiva chi è ottimista chi è positivo chi è consapevole chi riflette prima di agire non sta male sta bene allora se non lo sai quest'anno arriverò a 78 anni io dico 78 giri torna solo sto bene perché voglio stare bene io prova a ripetere con me io voglio stare bene io merito di stare bene io scelgo di stare bene io sto bene prova a ripetere almeno una volta al giorno io voglio stare bene mi sfero sinistro la volontà quello delle emozioni da io merito di stare bene poi l'insieme io scelgo di stare bene e poi di io sto bene prova grazie a tutti